La ricerca dei talenti è un progetto che fa parte di una partnership, di una famiglia di partnership direi con il Politecnico di Torino e in questo caso si tratta proprio di un progetto mirato a giovani talenti nella ricerca. Il nostro compito come Ateneo ma anche come territorio e per questo CRT è il nostro partner e quello di cercare di attrarre e trattenere i migliori talenti. Il progetto è iniziato circa due anni fa e è culminato oggi proprio con la selezione dei nuovi progetti. Un milione e mezzo circa l'impegno finanziario per noi come Fondazione CRT, un impegno al sostegno del capitale umano del territorio. Sono stati premiati dei progetti fortemente interdisciplinari che riguardano un'attività di ricerca di frontiera e che si propongono di sviluppare delle tecnologie che saranno essenzialmente tecnologie al servizio, al servizio dello sviluppo del territorio, al servizio dello sviluppo sociale e poi ovviamente anche al servizio dello sviluppo economico. Quasi un miliardo di persone nel mondo non ha accesso all'acqua potabile. I miei colleghi ed io al Politecnico di Torino stiamo lavorando per utilizzare l'energia del sole, concentrata mediante opportuni specchi, per dissalare e purificare l'acqua rendendola di fatto potabile. I laser a semiconduttore sono dispositivi optoelettronici che emettono luce monocromatica. Sono utilizzati per le comunicazioni in fibra ottica e permettono di navigare su internet a grande velocità. Nel mio progetto studio un particolare tipo di laser a semiconduttore a singola sezione, il COMB laser. La diffusione dei telefonini intelligenti che ormai quasi tutti noi abbiamo avrà anche un impatto nel modo in cui noi possiamo muoverci nella nostra città. Questo è l'obiettivo del progetto Demonstrate. Il nostro progetto studia le New Town cinesi di terza generazione, una risposta alla necessità di equilibrare la popolazione verso l'interno del paese. 100 e allo stesso tempo l'acronimo di Chinese New Town è un riferimento all'Italia delle 100 città. Il nostro scopo è mettere la matematica a servizio della biologia e della medicina per studiare il modo in cui i tessuti biologici si trasformano a seguito di eventi traumatici o patologici. Uno degli aspetti più affascinanti della natura è la sua capacità di autorigenerarsi. Proprio dall'osservazione della natura e dal tentativo di imitarla nasce l'idea alla base del progetto SCICRIT che sta per self-healing concrete o calcestruzzo autoriparante. Il scopo del progetto DESAL è la realizzazione di membrane porose per la desalinazione delle acque. I risultati ottenuti potranno avere numerose applicazioni che vanno dalla potabilizzazione delle acque all'abbattimento della salinità in acque di mare. Gli attuali strumenti di misura utilizzano svariate tecnologie. Sono generalmente molto costosi e purtroppo spesso mal sfruttati perché vengono utilizzati in maniera disgiunta. Il progetto CO-LVM propone lo sviluppo di modelli cooperativi innovativi per un uso combinato di strumenti di diversa natura. Il sostegno del Politecnico di Torino e della Fondazione CRT è quello che ci consente di portare avanti lo studio su questi materiali e di confrontarci in modo competitivo con gli altri gruppi internazionali che lavorano sullo stesso tema. Il Bando dei Talenti mi ha consentito di sviluppare gli strumenti teorici di modellazione e i primi prototipi di questa idea. Finanzierà e permetterà la realizzazione di una campagna d'indagine nell'area metropolitana torinese volta a capire come questi nuovi servizi di mobilità avranno un impatto sulle scelte di mobilità dei torinesi. Ci permette di strutturare una ricerca sul campo necessaria per questo progetto e di presentare ai partner cinesi come la Tsinghua University, una struttura organizzata. Sarà utilizzato prevalentemente per l'acquisizione di strumentazione da impiegarsi per la fase di implementazione e validazione sperimentali dei modelli in contesti industriali. Ci permetterà di acquistare gli strumenti informatici necessari per risolvere problemi di calcolo molto onerosi. Inoltre organizzeremo eventi scientifici per scambiare idee e conoscenze con ricercatori di tutto il mondo. Potrò creare un giovane gruppo di ricerca che lavorerà sulle tematiche più attuali riguardanti l'integrazione dei laser a semiconduttore in sistemi elettronici. Questo permetterà di realizzare membrane estremamente sottili caratterizzate da un'elevata efficienza di desalinizazione ed economicamente più conveniente rispetto a quelle attualmente utilizzate. La via per l'innovazione e per l'ottimizzazione delle risorse attraverso il prolungamento della vita utile delle strutture passa anche da iniziative come questa. Si tratta quindi per noi di un'iniziativa molto importante nella valorizzazione del capitale umano nel territorio e per il territorio. Questo è l'obiettivo che condividiamo con Fondazione CRT, investire sulle risorse umane per aumentare la nostra competitività, la competitività del nostro ateneo, la competitività dei nostri giovani e infine la competitività del nostro territorio. Grazie per la visione!